Salve sono Gabriel Austin, questo Crash Bandicoot Insane Trilogy, visto che stiamo facendo Crash 2 dopo aver raccolto 20 cristalli, dobbiamo sentire cosa ci dice Cortex adesso, così subito dopo affronterete il dottor NG, il quarto boss State a sentire sta scena Crash, ho scoperto che i nostri nemici sono guidati dal dottor Nitrus Brio Inventore del raggio Evolvo e responsabile delle nostre passate incomprensioni Già una volta mi ha costretto ad aiutarlo nel suo piano per la conquista del mondo Ora è tornato e farà di tutto per fermarci Occhi aperti Crash e usa la piattaforma per consegnare cristalli a NG Mi saluto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale Andate ad affrontare il dottor NG In...